ciao ragazzi amici di news formula uno orario insolito per il nostro paddock news in il quale andremo a commentare le qualifiche davvero belle dobbiamo dire del gran premio di Sakhir io sono Giovanni Messi presento subito l'amico Davide Russo ciao Giovanni e ciao a tutti quelli che ci seguono in prima serata diciamo una cosa subito Giovanni perché siamo sempre alla fine condividete il video iscrivetevi ai canali Facebook social siamo presenti su Instagram Twitter Facebook abbiamo la nostra pagina e ovviamente il canale dedicato su YouTube e ovviamente cliccate sui nostri articoli su news formula uno perché eh ci date ci date ovviamente una grossa mano commentiamo comunque queste qualifiche sono state interessanti vai pure Gio certo certo assolutamente non c'è Hamilton ricordiamo positivo al coronavirus ma questo poco ha cambiato il risultato in casa Mercedes perché è arrivata comunque la doppietta delle doppia buondici Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo in cinquantatré secondi ricordiamoci pista corta quindi si gira sotto il minuto e 377 millesimi per 26 millesimi ha battuto un grandissimo Russell perché va detto salire su una macchina avete visto anche il problema non entra benissimo nell'abitacolo perché è molto più alto di Hamilton e dare così filo da torcere a Bottas è stato un lavoro veramente eccezionale di questo pilota che di talento ne ha da vendere anche Verstappen può recriminare un po' perché andiamo a vedere cinquantasei millesimi di ritardo dalla Paul quindi molto molto vicino ma soprattutto incredibile ragazzi a pensare a quello che è successo una settimana fa Charles Leclerc quarto con la Ferrari a due decimi dalla Paul e Davide bisogna anche dire che non ha avuto il treno di gomme necessario per effettuare un ultimo tentativo quindi è stato veramente bravo a farlo nel primo tentativo senza l'ultimo miglioramento della pista grandi colpi di scena secondo me nel Q2 perché Albon con la Red Bull è stato escluso dodicesimo davanti a Vettel nuovamente purtroppo nettamente battuto dal compagno di squadra ma non è una novità tornando ai primi dieci ci sono Perez in quinta posizione con la racing point davanti a Kiat che una volta tanto batte Gasly con Ricciardo Sainz appunto Gasly e Stroll a completare la top ten ma una qualifica veramente scoppiettante non è stata la solita passeggiata Mercedes vai pure Davide sì allora io come al solito evidenzio un po' gli highlights della qualifica c'è stato quel team radio particolare a George Russ dove gli hanno detto very close perché è andato veramente vicino a battere Bottas sarebbe stato clamoroso e Bottas già le prende di tanta ragione da Hamilton questa volta ha fatto quello che doveva fare si è piazzato lì in prima posizione comunque partirà al suo fianco Russell e ci sarà da divertirsi ovviamente terzo posto per Verstappen che è sempre lì in agguato e la sorpresa è stato questo giro magnifico di Leclerc ragazzi rivedetelo perché di un'aggressività e con una cattiveria che va sui cordoli in un modo veramente strepitoso il megasco ha talento lo sappiamo serve ovviamente il mezzo però oggi ha dato dimostrazione ancora una volta delle qualità e del coraggio di riuscire anche a andare oltre i limiti di questa SF1000 purtroppo Fettel è l'altro rovescio della medaglia e tredicesimo e quindi ne parleremo approfonditamente Perez fuori nel 2021 è veramente un crimine contro la meritocrazia una follia totale perché questo ragazzo messicano meriterebbe un top team e credo che la Red Bull farebbe bene ad investire dato le scarsissime prestazioni di Albon sul messicano e poi Heitken addirittura si è messo davanti a Raikkonen quindi un debutto ovviamente Heitken sostituiva Russell che questa questo weekend corre in Mercedes e addirittura ha avuto un debutto da sogno davanti al campione finlandese ma sì assolutamente abbiamo visto comunque dei confronti molto molto equilibrati per quanto riguarda le novità no? Quello che è successo con Russell con Bottas oppure Heitken con Latifi Heitken molto molto vicino alla Latifi questo sottolineamolo quindi ha fatto un gran lavoro anche a parità di macchina quello che è rimasto un po' più lontano dal compagno è stato Fittipaldi ultimo con Magnussen sedicesimo ma insomma Fittipaldi non girava da tantissimo tempo in in con una vettura reale faceva solo gran premi virtuali quindi anche lui comunque ha portato a casa il suo certo con una nas poco poteva fare però credo che i punti salienti di questa giornata tralasciando appunto il discorso Fettel ne parleremo dopo ma sia proprio quello che è successo in Mercedes perché quello che vediamo in questo weekend secondo me può essere determinante anche per il futuro perché se davvero Toto Wolff vede un Russell che domani disgraziatamente per Hamilton vince il gran premio credo che Toto Wolff avrà il coltello dalla parte del manico per quanto riguarda il rinnovo di Hamilton cioè potrà veramente giocare a ribasso Hamilton vuole una cifra astronomica ma Mercedes può dimostrare che anche senza Hamilton è in grado di vincere e credo abbiano già pronto lì il sostituto perché Russell insomma pronti via salta su questa macchina rischia di fare la poll direi che è un risultato incredibile quindi questo fa capire che con quella Mercedes Russell è un fenomeno ma quella Mercedes potrebbe potrebbe far vincere più o meno tutti perché insomma non ha fatto neanche un test eppure è già lì secondo veramente bravo lui ma ancora una volta sottolineiamo la grandezza di questa macchina straordinaria sì Verstappen l'aveva detto con una Mercedes il 90 per cento della griglia può giocarsi la vittoria quindi Russell nonostante non abbia ancora firmato un punto in Formula 1 è riuscito con una prestazione maiuscola sia nel venerdì di prove libere sia oggi a mettersi lì ovviamente in prima fila e non ci è abituato domani vedremo ovviamente la partenza la gara è qualcosa di diverso credo che Russell saprà giocarsi al meglio le sue chance è un predestinato anche lui perché nelle categorie minori ha fatto tanto ha vinto tanto e quindi non vorrà certamente perdersi questa grande chance e va detto non scopriamo stasera Giovanni la potenza di questa Mercedes W11 che è veramente una macchina straordinaria nettamente superiore alla concorrenza al di là di quel che si dice su ipotetici diciamo aiutini io credo che questa questa Mercedes sia regolarissima sia regolarissima è una macchina che vai vai scusa Davide no dico è una macchina che è stata spinta al di là di ogni immaginazione sia dal punto di vista telaistico che motoristico quindi chiunque la guidi io credo che trovi subito un feeling immediato sì sì perché quanto abbiamo visto oggi io credo va dal di là anche dell'immenso talento di Russell cioè comunque sei sempre un pilota che viene da una Williams che ricordiamoci è due secondi più lenta della Mercedes quindi anche se sei un pilota dall'immenso talento su una macchina normale e la Mercedes non è una macchina normale è un'astronave sarebbe comunque difficile trovare subito il bilanciamento e invece lui l'ha fatto quindi bravo lui ma sì sottolineiamo sempre questa macchina che oltre a essere secondo me bellissima con questa livrea nera incredibile ma anche un missile anzi oggi sono stato sorpreso che su una pista così di motore eh Verstappen si è arrivato così vicino e l'Eclerc ha anche a due cioè non avevamo mai visto quest'anno una Ferrari sotto almeno i sette otto decimi di stacco in qualifica dalla Mercedes quindi bravi anche loro ma obiettivamente va detto anche questa è una pista cortissima quindi i primi dieci sono racchiusi in otto decimi e di solito vediamo che il nono il decimo pagano due secondi dalle Mercedes quindi anche quello ha influito però comunque la Mercedes il suo l'ha fatto indipendentemente dai distacchi e domani però mi aspetto una bella gara Verstappen secondo me sa che ha una grande occasione e non sottovalutiamo neanche l'Eclerc perché secondo me al via avrà delle buone carte è vero parte dal lato sporco però però mi aspetto una bella gara anche da parte sua che ha portato la Ferrari in una posizione incredibile obiettivamente straordinario veramente l'Eclerc riesce sempre a buttare il cuore oltre l'ostacolo diciamo spesso oramai sono mira Clerc perché sono miracoli quelli che compie il Monegasco e fa davvero stride diciamolo chiaramente la prestazione di Vettel quest'oggi e non riesce a qualificarsi ovviamente nella top ten ed è veramente distante anni luce anche nel nello score complessivo nel campionato perché dieci a tre no dieci volte si è riuscito a qualificare l'Eclerc mentre soltanto tre volte è riuscito Vettel quindi e l'Eclerc ha saltato le libere di ieri eh ricordiamo sì l'Eclerc ha saltato le libere quindi ancora meno esperienza su questo tracciato che sembra appunto una pista di go kart però questi ragazzi si sono adattati subito meno forse i veterani e come dici tu dal punto di vista comunque della prestazione Verstappen e l'Eclerc domani potrebbero avere delle chance perché Russell io credo che sulla durata potrebbe avere qualche problema e e quindi dovono cercare di approfittarne di questa assenza di Hamilton e l'Eclerc ricordiamo che ancora in ballo per il quarto posto in classifica piloti e oggi si è messo in una bella posizione per giocarsi anche questa posizione e per far capire anche a chi ci segue con compassione e quotidianamente con i nostri video quanto ci sia di l'Eclerc in questo risultato perché io trovo clamoroso che sia ancora lì a giocarsi questa posizione in classifica piloti sì devo dire una mano gliel'ha dato anche Perez la scorsa domenica con il ritiro perché probabilmente senza quel ritiro Perez avrebbe blindato quel quarto posto però però anche l'Eclerc ha avuto le sue sfortune quest'anno quindi è giusto che è giusto che ci sia stato un po' diciamo di giustizia sportiva a suo favore non me ne voglia Perez però sì sì assolutamente lui una stagione incredibile secondo me l'Eclerc quest'anno ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo e ho paura che senza l'Eclerc la Ferrari quest'anno difficilmente sarebbe arrivata con costanza in zona punti perché faccio fatica a capire qual è la vera Ferrari non è sicuramente quella di Leclerc che a volte l'ha portata anche a podio non è spero non sia neanche quella di Vettel perché Vettel ragazzi l'abbiamo visto anche ieri nella simulazione di gara cioè non riusciva a stare in strada io non so in ogni weekend tra libere qualifica e gara io vedo almeno dieci undici replay di Vettel che va fuori pista testa coda non riesce a tenere in pista la macchina io capisco che non è una macchina che lo esalta però ragazzi stiamo parlando di un quattro volte campione del mondo cioè non può essere che a ogni curva un bloccaggio un errore parecchi dubbi mi rimangono cioè ho capito che hanno due stili di guida diversi però troppi troppi errori quelli di Vettel e anche oggi anche dal punto di vista prestazionale vai a vedere se è preso sei decimi che su questa pista sono un'eternità si ha deluso Vettel ha deluso il contributo ovviamente che riesce a dare è limitato credo che ovviamente ad istambul ha fatto una prestazione veramente al di sopra anche lì del dell'auto però in questo momento Vettel io credo sia anche un po' diciamo proiettato alla prossima stagione non vede l'ora di sedersi ovviamente in un'Aston Martin un'auto totalmente diversa e capiremo il prossimo anno su una vettura decisamente opposta rispetto al concept della Ferrari quanto riuscirà ovviamente a dare mi aspetto ovviamente un Sebastian trasformato psicologicamente perché questa esperienza nel 2020 forse lo ha lo ha veramente segnato in modo troppo eccessivo e negativo forse ce la farà a riprendersi lo sapremo solo vivendo e scoprendo anche come sarà la vettura del prossimo anno che si era Aston Martin per quanto riguarda invece un'altra differenza che c'è tra compagni di squadra e voglio sottolineare Albon che è una casella avanti a Sebastian Vettel dodicesimo e Verstappen è in seconda fila quindi ragazzi Albon è un altro che ha avuto la sua chance c'è stata pazienza ma non merita a questo punto di correre in un top team ma assolutamente assolutamente Albon disastroso avete visto la faccia di Horner appena si è visto dalla grafica che Albon era fuori ha scosso la testa e se la scorsa settimana aveva fatto qualcosa per far credere alla Red Bull che fosse giusto confermarlo e oggi credo l'abbia fatta grossa eh podio la scorsa settimana ma questa volta l'ha fatta grossa eliminato in Q2 insomma con una Red Bull è inaccettabile credo quindi male male ma il Q2 ha regalato parecchie sorprese oltre ai fette anche Ocon con la Renault fuori anche anche Norris se non vado errato no fuori con la McLaren quindi tante tante sorprese e poi onestamente delle alcune cose non me le spiego perché obiettivamente questa pista è ancora più di motore se vogliamo rispetto alla scorsa settimana quindi o Ferrari ad esempio ha imbroccato il giusto assetto con la Ferrari e la con le Glerk e la McLaren l'ha totalmente sbagliato perché McLaren la scorsa settimana andava veramente forte e oggi Sainz ottavo e Norris quindicesimo addirittura quindi non lo so una pista sicuramente che non ha reso facile secondo me il lavoro degli ingegneri avete visto quante sconnessioni del tratto centrale delle sorprese le ho notate assolutamente perché insomma la Ferrari con le Glerk ha fatto uno step incredibile pur essendo una pista ancora più di di motore a meno che questo qui non abbia tirato fuori il giro della vita io non lo so però era molto competitivo anche nel Q2 quindi quindi credo sia comunque farina del suo sacco ma non di un giro miracoloso ma proprio di una buona performance generale e invece Albon come hai detto tu Davide un disastro totale e credo Red Bull cambierà cambierà assolutamente pilota per i prossimi anni. Andiamoci a sentire subito le parole di Le Glerk e Vettel sono uscite le dichiarazioni Le Glerk ha annunciato con grande entusiasmo questa quarta posizione ha detto sono molto soddisfatto nel Q3 abbiamo deciso di scendere in pista all'inizio della sessione avremmo potuto aspettare ma sia in considerazione del traffico sia perché avevo le idee molto chiare su quello che c'era da fare ho preferito andare fuori subito e sono riuscito a mettere insieme un ottimo giro a quel punto sono sceso dalla macchina perché non avevo più gomme nuove e non era pensabile riuscire a migliorare il mio tempo guardando la gara devo dire che non ho troppi elementi su cui basarmi perché avendo perso per intero le Fp2 non ho potuto effettuare la situazione di gara tuttavia mi sembra di aver trovato un ritmo oggi e spero di poterlo fare anche in gara non credo che siamo in terza la terza in forza in campo ma intendo massimizzare in gara questa posizione di partenza ma sì strana questa cosa delle gomme Davide perché comunque del fatto che non avesse più gomme rosse adesso sinceramente non so quante ne avesse portate la Ferrari però obiettivamente diciamo che le clerk come abbiamo anticipato prima non ha partecipato alle prove libere di ieri e nelle prove libere bene o male due set di gomme rosse le consumi quindi ovviamente lui le ha risparmiate poi mettiamoci anche che nel Q2 ha disputato il primo tentativo con la gialla e solo il secondo con la rossa quindi anche lì un treno di rosse lo ha risparmiato onestamente non capisco o Ferrari ne ha portate veramente poche di gomme rosse oppure ne hanno utilizzate tantissime stamattina nelle ultime libere perché se no non mi spiego come non avessero l'ultimo set di gomme rosse e sì non ha avuto diciamo l'ultimo shot le clerk però insomma ha sfruttato alla grande quella quell'occasione se avesse sbagliato quel giro sarebbero stati dolori e invece il suo straordinario talento gli ha permesso di di ottenere il massimo possibile uscito eh dalla dalla SF1000 abbiamo visto con l'inquadratura soddisfattissimo si è alzato la visiera fatto anche un occhiolino e ovviamente c'è c'è soddisfazione eh sì più di quello non non si poteva fare invece Fettel ha dichiarato in macchina oggi ho avuto delle buone sensazioni quindi non so dire davvero cosa non sia andato per il verso questo queste tante volte l'abbiamo sentito quest'anno eh forse perdevo qualcosa sui rettilini e anche nel settore centrale non so se questo possa essere in qualche modo legato al cambio di power unit ma il lavoro dei ragazzi nei box è stato ottimale perché la monoposto da guidare era perfetta non siamo riusciti a superare il turno ma sapevamo che poteva succedere visto che nel gruppo di mezzo la classifica è stata serratissima proprio come ci aspettavamo è stato un peccato specialmente dopo il Q1 ero piuttosto fiducioso prendersi cura delle gomme in gara sarà difficile ma potrebbe essere anche la chiave per una corsa positiva avremo possibilità di scegliere con quale mescola schierarsi al via e vedremo domani se riusciremo a recuperare terreno ma è la prima volta che sento Fettel che dice la macchina da guidare era perfetta cioè quest'anno onestamente non l'avevo mai sentito parole così ti fanno pensare che forse è davvero Leclerc che ha una marcia incredibile riesce a far andare questa macchina perché da come ha detto Fettel non era così negativo sulla vettura ieri lo è stato però da queste parole che mi ha appena letto che onestamente non avevo sentito ti fa capire che non era così arrabbiato quella macchina spesso l'ha giudicata anche giustamente in malumoto dopo dei turni difficili quindi quindi sì evidentemente evidentemente non ne ha come Leclerc ragazzi è questa la verità indipendentemente da macchina facile o difficile da guidare c'è una netta differenza tra i due quest'anno alla guida di questa macchina vedremo con l'Aston cosa farà allora vediamo un po' di commenti che ci stanno arrivando salutiamo Salvo Giorgio Marco Lorenzo e tantissimi che ci scrivono allora prima di tutto Giorgio dice grande Leclerc Fettel no infatti molto eh molti dei commenti che stanno arrivando si basano appunto su questa diversità di cronometrica tra i due alfieri della rossa buonasera ragazzi dice Marco Bigliardi vorrei fare un unico e solo commento quest'anno l'unico che non ci ha deluso è Sebastian alla fine lui una sbinnata ce la regala sempre ovviamente c'è anche un po' di comicità eronia a parte dei ragazzi che ci stavano a casa allora la Mercedes la può guidare anche Latifi aggiunge Salvo e andava veloce pure lui ma io credo che Latifi entrando in Mercedes a gennaio del 2021 facendo test simulatore prove sedile e tutto chiaramente non con Hamilton vicino ma il mondiale se lo gioca il mondiale te lo giochi con la Mercedes ragazzi questo è chiaro cioè io non dopo questa domenica dopo questo sabato non ho più dubbi non so tu Davide ma secondo me al volante di una Mercedes dopo tutte dopo i test e tutto preso confidenza con la squadra per me il mondiale se lo gioca chiunque non con Hamilton vicino ma te lo giochi allora domani sono curioso di vedere Russell in gara anche io sicuro di sicuro ragazzi questa W11 noi l'abbiamo ripetuto veramente fino allo sfinimento e di un'altra categoria cioè corre veramente un altro campionato e unito al fatto che Hamilton è un campione e diventa diventa impossibile naturalmente per gli altri allora Polman di giornata Luca secondo Luca e Leclerc quindi considerato il driver of the day Lorenzo ci dà uno spunto per parlare di una notizia importantissima ovvero l'allontanamento di Simone Resta dalla Ferrari e sarà ingaggiato da us Lorenzo ci chiede piccola parentesi extra la Ferrari ingaggerà qualche buon tecnico per sostituire Simone Resta secondo me deve farlo per forza Giovanni perché secondo me non lo sanno anche loro non lo sanno però inevitabilmente qualcosa dovranno fare perché già la situazione è quella che è poi anche un uomo in meno regali un tecnico di qualità perché Simone Resta è un ottimo ingegnere quel punto si c'è Cardile però bisogna assolutamente intervenire per per qualche rinforzo ma io ho letto secondo me un'ottima disamina di Gigi Mazzola l'ingegnere che tante volte abbiamo intervistato sul suo gruppo Facebook ha un blog molto seguito però l'invito di andarlo a leggere perché è molto interessante e lui ha scritto ha commentato negativamente questo allontanamento di Resta e la sua speranza è che appunto non sia la solita mossa della Ferrari diciamo di di cercare di creare un nuovo team completamente da zero una nuova rivoluzione vera e propria che poi però non ha mai dato i risultati sperati no quindi si deve sperare in un team che prenda obiettivamente una guida una vera e propria guida perché adesso ributtarsi sulla squadra giovane cento per cento italiana che deve avere tempo di lavorare ragazzi non c'è più tempo cioè non c'è più tempo la Ferrari adesso ha in mano un fenomeno stratosferico come le Clerc non può bruciarlo quindi deve cercare di offrire una macchina vincente per lo meno nel 2022 per lo meno per giocarsi il titolo e tornare ad essere degna di questo nome perché obiettivamente lasciamo stare un attimo il quarto posto di oggi la Ferrari di quest'anno non è stata all'altezza della sua fama quindi deve cambiare assolutamente qualcosa non avrei mandato via Resta io assolutamente anche perché l'avevano da poco ripreso e secondo me ripeto l'abbiamo detto tante volte Davide Resta è il vero padre delle SF 70 e 71 H perché non era Binotto si è capito dal fatto che una volta allontanato Resta Binotto direttore tecnico Binotto ha costruito la SF 90 e la SF 1000 che ero dinamicamente erano due camion scusatemi per il termine e quindi non lo so spero ci sia pronto un rimpiazzo un rimpiazzo importante perché altrimenti affidare la guida tecnica nuovamente a Binotto a Cardile con tutto il rispetto per loro per me non è la mossa giusta per un per un per una ripartenza no perché serve anche proprio una figura nuova e intorno alla quale costruire il progetto 2022 dovrebbe essere la rinascita almeno così ha detto il can e però ragazzi diventa difficile pensare di perdere un uomo regalarlo tra l'altro team la AS che avrà anche Schumacher nel 2021 e sarebbe il colmo che Schumacher il prossimo anno e parleremo anche della sua gara in formula 2 avrà magari Resta e un una bella squadra per per un rilancio dell'AS mentre la Ferrari va a perdere un po' come era successo con Marchionne che aveva destinato all'Alfa Romeo in quel periodo resta di nuovo il tecnico forse di maggiore talento no lato lato telaio è quello che poi ha bisogno la Ferrari di cambiare comunque molti ragazzi sono d'accordo con te Joe perché Luigi e Damiano appunto fanno riferimento ad una macchina che non ovviamente aiuta le Clerc Luigi tra l'altro aggiunge domani riuscirà Charles a tenere a tenere il ritmo con le gomme lo spero ma considerando il trattore l'SF 1000 di quest'anno non credo ma ne ho letto uno prima di commento di Ugo mi sembra che scriveva quando gli altri apriranno il DRS domani per la Ferrari sarà finita eh diciamo che un po' un po' lo temo perché ricordiamoci se non sbaglio anche al Nürburgring le Clerc fece quarto in qualifica ma poi in gara veniva sverniciato come se fosse fermo e quindi ho paura anch'io un po' di questo che quando si andrà di velocità sui rettilinei poi la Ferrari soffra perché il giro vero e proprio il giro secco te lo puoi inventare ci può stare ogni tanto ma poi in gara tenere il ritmo se non hai velocità sinceramente sono un po' sorpreso di questo ho visto nel speed trap un paio di volte la regia lo ha mandato in grafica e Fettel era in testa la speed trap con 323 km orari non so se ci hai fatto caso Davide nelle grafiche poi non ho non ho visto i dati delle speed trap complete però quando la regia li mandava in grafica in diretta e si vedeva Fettel con come top speed quindi non so se la Ferrari ha cambiato qualcosa a livello di non lo so di assetto della macchina se hanno trovato un buon compromesso la macchina è scarichissima il setup è cambiato rispetto a sette giorni fa la pista è super veloce la velocità di media altissime quindi oggettivamente la Ferrari sta sta giocando il tutto per tutto bisogna vedere in gara come dice Ugo magari in qualifica già era successo quest'anno che Leclerc avesse ottenuto la seconda fila però poi con grande con grandi patemi il giorno dopo in gara Giancarlo che salutiamo con piacere Giancarlo Marengo aggiunge ragazzi vediamo domani Giorgio Russell perché in gara non ha mai fatto nulla di speciale secondo oggi ma domani faticherà addirittura per il fodio secondo Giancarlo allora è vero che sì però qualche piccola occasione l'ha sprecata e do ragione a Giancarlo anche a Dimola no dietro la safety car ha fatto quell'errore qual è il pericolo ragazzi che per strafare per dimostrare dato che l'occasione della vita si può caricare di un peso di responsabilità e pressioni molto alto e magari commettere qualche cappellata noi glielo auguriamo però eh sì perché comunque giovane eh ripetiamo non ha ancora marcato un punto in formula uno io ho scritto un post relativamente a questo dicendo forse dovrebbe volare basso cercare di avere degli obiettivi minimi e poi tutto quello che ne esce di di migliore naturalmente e tanto di guadagnato sì 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 però secondo me fino adesso in questo weekend ha fatto un lavoro fantastico eh obiettivamente anche perché ieri primo nelle libere ma stamattina era un po' più in difficoltà anche nelle prime due sessioni di qualifica era piuttosto distante da in botta su ovviamente sempre quei due decimi però poi nel Q3 ha trovato un giro incredibile e ha sfiorato la pole con Reco nel terzo settore quindi diciamo ha saputo ricrearsi dopo un grande inizio oggi così e così e poi nel Q3 invece ha tirato fuori la zampata poteva anche essere dietro Verstappen invece onestamente prima dell'inizio del weekend non me l'aspettavo in prima fila pensavo che Verstappen riuscisse a inserirsi tra le Mercedes e invece questo qui quasi quasi faceva lo scherzo quindi un lavoro assurdo eh un lavoro assurdo a meno che consentimi la battuta lo leggo in continuazione sui social la macchina di Hamilton non sia davvero superiore a quello di Bottas e quindi abbia avuto più possibilità per questo è una battuta chiaramente ma non so fino a che punto per certe persone e poi povero Russell corre con delle scarpe strettissime che sono un numero in meno in una vettura che naturalmente è disegnata sul campione del mondo e quindi lui si sta adattando essendo anche dieci centimetri più alto rispetto a Lewis Hamilton ma diciamo che chiunque nei suoi panni avrebbe colto al volo l'occasione anche magari indossando eh una maglietta neanche una tutta le pantoffe allora Andrea ti chiede cosa ne pensi della pista Giovanni ti piace ma ti devo dire non è certo non è ragazzi non è Spano nel Mugello non è Imola però c'è obiettivamente per le qualifiche ha funzionato cioè è stato un format che comunque è interessante sono state le qualifiche più belle dell'anno fino a prova contraria insieme a quelle di Istanbul forse ma lì c'era la pioggia vedremo per la gara te lo dirò dopo la gara perché se la gara è divertente ci sono sorpassi è emozionante le piste ci piacciono cioè obiettivamente a me ti resta poco se la pista sono tutti rettilinei sono tutte curve se c'è spettacolo ti diverti se esce fuori una gara divertente anche a Monte Carlo ti dico che mi piace anche Monte Carlo perché è una pista che francamente non è che amo però se viene fuori quella gara spettacolare ti piace qualsiasi pista credo anche soci perché se trovi spettacolo alla fine è quello quello che conta non ti interessa dove si corre io rispondo invece a Massimiliano che dice Russell avrà un vantaggio la partenza domani secondo voi non parte dalla parte sporca no parte dalla parte sporca quindi non credo e poi che hanno le gomme gialle le Mercedes invece tutti gli altri le rosse quindi potrebbero un po' soffrire al via e sì un vantaggio però va detto che Bottas è bravo eh nello scatto al via poi negli ultimi tempi si è un po' addormentato perché diciamo che Bottas una volta che ha firmato il rinnovo si è messo nella comfort zone ha staccato la spina e però insomma nel nel fondamentale del dello stacco di frizione e dello spegnimento dei semafori Bottas rimane tra i piloti migliori naturalmente considerate Russell che ha negli specchietti Verstappen e Leclerc ragazzi non non è proprio banale e sì non è proprio banalissima come come situazione e la ricordi quella partenza di Bottas mi sembra in Austria tre anni fa che addirittura si gridò alla falsa partenza per quanto aveva staccato velocemente pazzesco sì una reazione di circa un decimo e mezzo mi ricordo infatti Vettel subito disse via radio ha saltato la partenza invece era regolare sì sì era era veramente ma da Guinness Marco Biliardi ci chiede Hamilton avrà il nulla osta per Abu Dhabi e bisogna vedere devi avere quattro tamponi deve risultare negativo poi magari puoi arrivare lì anche venerdì e o saltare addirittura le prove libere e difficile secondo me sì è dura perché quattro tamponi sì anche perché l'hanno trovato positivo se non ricordo male martedì mattina lunedì è uscita la notizia ok quindi sì minimo una settimana in genere questo virus ha di durata e poi comunque quindi fino al lunedì martedì prossimo considerate potevi fare quattro tamponi non credo che puoi fare quattro tamponi in un giorno devono essere ovviamente distanziati quindi la vedo dura che Hamilton possa correre da Abu Dhabi onestamente non me ne voglia lui ma io spero non corra perché almeno vedremo un'altra gara con battuta magari chiaramente è una battuta nel senso la salute prima di tutto però se magari guarisce e decide di far divertire un po' anche gli altri dopo questo campionato dominato così non sarebbe male chiaramente in bocca al lupo a Lewis stiamo scherzando eh prima di tutto speriamo che sia bene presto Damiano ci dice quando le voci quindi le voci sugli attriti tra binotto e resta forse erano vere se vi ricordate ragazzi abbiamo fatto quella diretta con Sabatini che aveva intervistato resta e aveva parlato del fatto che stesse progettando la vettura del prossimo anno e quindi c'era cooperazione probabilmente qualche attrito c'era si parla anche di una questione eh economica si parla di una questione legata a differenti vedute ricordiamo che Pinotto è un motorista e vuole vincere con quel principio di un motore nettamente superiore quindi forse anche lì tra ingegneri qualche cosa sarà successo no Giovanni sì 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 assolutamente è una situazione scusami Davide non ti sento vai 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 continua a parlare Gio eh sì scusate ragazzi ma non ho sentito bene quello che ha detto Davide perché c'ho qualche problema con le cuffie spero che mi sentiate ok Davide mi facendo di sì purtroppo qui abbiamo dei mezzi un po' elementari quindi non non siamo proprio ancora al top c'ha le cuffie cinesi c'ha c'ha le cuffie non ci abbiamo ancora sì me l'ha vendute Guanyu Zhu il pilota della Formula 2 quindi diciamo non siamo particolarmente perfetti comunque sì diciamo che mi aspetto mi aspetto tante cose da domani purtroppo non ho sentito quello che ha detto Davide quindi non posso rispondere alla sua domanda se Davide magari me la vuole scrivere posso rispondere fa niente dai andiamo avanti era sui presunti contrasti tra Binotto e resta e rispondi a questa domanda vai rispondi a questa domanda di Damiano ragazzi ma con resta la AS non si rischia una Ferrari B credo di aver letto il dabiale di Davide che diceva tra Binotto e resta se ci sono dei dei dissiti no Davide quindi sì sì assolutamente credo che la situazione non sia rosa adesso a parte scherzi abbiamo avuto un momento di hilarità ma non è rosa la situazione Ferrari eh perché prima i ve li ricordate i contrasti arriva bene Binotto no quello che era successo Binotto sembra veramente avere un grande potere in Ferrari perché prima era arrivata la è arrivata la discussione con l'arriva bene disse eh se non mi mettete in principio al me ne vado e arriva bene è stato mandato via e Binotto è stato promosso adesso addirittura con adesso addirittura con con resta e Binotto e resta è andato via quindi sembra proprio che Binotto sia un vero e proprio accentratore cioè abbia raggiunto una tale potenza politica in in scusate in Ferrari eh magari andasse in Mercedes eh che sembra assolutamente padrone di tutto in questo momento quindi sì e credo non sia un bene questo per la Ferrari eh Massimiliano ci chiede ci perde e ci guadagna con l'uscita di resta la Ferrari ce lo dirà soltanto il futuro ragazzi te lo dico adesso secondo me è una gran perdita per la Ferrari resta al momento attuale poi se la Ferrari prende Ellison o prende Adrian Newey o prende James Key e potrebbe essere invece una buona notizia perché si tratterebbe comunque di progettisti mai stati o meglio nel caso di Ellison sì ma che altri non sono mai stati a Maranello potrebbero portare veramente qualcosa di nuovo ed è un qualcosa che manca intanto saluto Daniele ok adesso ti sento saluto eh Albano Giuseppe e tanti ragazzi che che ci contattano volevo recuperare un messaggio di Alex eccolo qui Alex Zonghetti pensieri sulla F2 perché eh è un campionato apertissimo domani si deciderà l'ultima curva quindi con un test a testa tra Mick Schumacher e Eilott questo è fantastico ragazzi perché questi sono i campionati che rimangono poi nella memoria e oggi abbiamo visto una gara in rimonta dalla diciottesima posizione splendida di di Mick che è riuscito poi addirittura a mettersi negli scarichi di Eilott alla fine è arrivato alle spalle ma è riuscito poi a nel complesso ottenere quel bottino di punti per non perderli sostanzialmente quindi ha annullato diciamo un punto come si direbbe nel tennis break e di conseguenza Mick continua a stupire e a crescere ha gestito bene le gomme ha fatto il giro più veloce si è preso i rischi giusti sorpassi comunque davvero davvero interessanti dopo l'errore Joe che eh gli era costato un po' no quella posizione griglia allora consentimi di dire che secondo me le gare di formula 2 sono sempre fantastiche cioè è raro che ci sia noi a vedere una gara di formula 2 perché c'è chi magari parte da dietro per rimontare allunga lo stint come ha fatto con Schumacher oggi poi rientra in pista con gomme fresche quindi riesce a avere un gran finale di gara con tanti sorpassi e quindi veramente divertente sì Mick ha dato prova secondo me oggi di maturità perché non ha fatto ulteriori errori ha fatto la gara che doveva fare arrivando subito dietro ad Eilott e non ce lo immaginavamo dopo la parte dopo le qualifiche sì ieri ha sbagliato si è toccato con Nissan mi pare giusto però oggi oggi è stato oggi è stato bravo e domani obiettivamente è il favorito per il titolo è stato penalizzato Mazepin ragazzi scusate Mazepin delle cose folli ha fatto oggi il russo che sarà in asse il prossimo anno delle delle manovre kamikaze che io non so come non sia stato picchiato da qualche altro pilota perché per difendersi buttava praticamente fuori dalla gareggiata gli altri però un bel lavoro secondo me quello di Mick e che partirà però non in pole giusto davide domani perché con la penalità di Mazepin credo sia salito al settimo posto oppure era no era arrivato settimo scusate quindi doveva partire secondo invece è arrivato sesto e domani partirà terzo però comunque scatterà domani davanti subito davanti ad Eilott quindi avrà delle grandi occasioni ancora un bel gruzzoletto di punti da da difendere però non può mai non si può mai dire nulla il motorsport è così ma oggi ha dato prova di maturità oggi poteva perdere la testa non l'ha persa e ha fatto un gran lavoro ringraziamo intanto scusa vi davide valeria che ci ha scritto perché non ci facciamo assumere da sky magari valeria magari sarebbe bellissimo il commento detto premesso che adoro i commentatori sky ma perché non vi fate assumere siete fantastici apprezziamo ancora di più visto che li adori sì mi perdo pochissime dirette grazie valeria e grazie anche piero che ci seguono adesso leggo il messaggio di piero buonasera ragazzi al top come sempre che ne pensate la scelta mercedes promuovere rasse il totewolf si è dimostrato ancora una volta un manager con la m maiuscola poteva optare per una scelta accomodante come quella di van dorn che non guida una formula 1 a tempo invece scelto il giovane in ascesa inglese intanto emilton non ancora rinnovato e siamo al 5 dicembre credo che rimarra in mercedes ma se rasse dovesse fare una gran gara addirittura vincere boh cioè allora sono d'accordissimo su wolf io stimo tantissimo al di là che qualche volta fa delle prese in giro lasciate commenti un po sopra le righe a livello generale è veramente un manager straordinario mi aspettavo russell però era in bagarra anche van dorn perché erano ovviamente lì sui collaboratori quindi c'era c'era ovviamente tanta attesa per scoprire questo nome alla fine hanno scelto russell e gli hanno dato un'occasione della vita che comunque questo giovane si merita correndo già in formula 1 in questo calvario di due anni in williams quindi la vedo come una scelta si proiettata al futuro perché russell è un promesso sposo della mercedes però oggi è dimostrato perché russell non corre già in mercedes perché darebbe fastidio è uno giovane gagliardo e forse darebbe molto più fastidio di bottas e invece sappiamo che secondo pilota tranquillo che sta lì e diciamo fa da spalla lewis e ma ragazzi domani una vi immaginiamo sempre stiamo immaginando ragazzi non è sicuro che domani vincerà perché le variabili saranno tantissime russell di solito parte male quindi io non lo metto come favorito ma domani se george russell vince il gran premio di sakir secondo me per emilto non si mette poi benissimo per questo rinnovo intendiamoci rinnoverà sicuramente però non sarà così facile per lui tirare così sul prezzo dal punto di vista economico cioè secondo me toto wolf farà di tutto per cercare di di ridurre la spesa nell'ingaggio di emilton perché obiettivamente un russell che ti salta su e domani ipoteticamente se ti vince la gara ragazzi questo è il sostituto l rete designato se domani dovesse vincere mettiamo sempre il se ovviamente perché c'è bottas c'è verstappen c'è le clerche ci sono 87 giri domani ricordiamocelo però non è così facile per emilton se questo qui vince domani perché a me piace da morire e e se secondo me è un grandissimo talento due anni in williams veramente sprecato secondo me due anni vedendo soprattutto che alla prima qualifica arriva vicinissimo a bottas e bottas quest'anno però ricordiamolo ha battuto diverse volte emilton in qualifica nurburgring imola anche su piste difficili red bull ring quindi bottas arrivare così vicino a bottas in qualifica non è facilissimo perché bottas in qualifica va spesso forte e per questo credo che emilton non abbia digerito più di tanto quello che si è visto oggi tra l'altro volevo leggere una dichiarazione di emilton che gli hanno chiesto se ho pensato ritirarmi ovviamente a riferimento all'incidente di grogian che è stato davvero brutto ragazzi il momento è per miracolo che secondo me è uscito il leso o solo con delle scottature il pilota francese comunque è svizzero il passaporto francese crogian emilton ha risposto sarei un'ipocrita se dicessi di no sono sempre stato consapevole dei rischi che corro però quando invecchi di domandi se ne vale la pena ma non sto pensando di ritirarmi comunque emilton vuole andare avanti l'ha detto si sente bene e ovviamente informissima quest'anno ha battuto tutti i record ha superato schumacher ma sul discorso economico ti do ragione cioè non potrà forse vantare delle pretese considerando la crisi generale che sta vivendo il motorsport la formula 1 abbiamo visto anche tante decisioni durante il fine settimana Volkswagen che si ritira la motorsport Audi che va via insieme a bmw della formula è è un periodo particolare e credo che tanti soldi forse non riuscirà a strapparli perché lui vorrebbe il contratto a questo punto migliore della sua intera carriera in mercedes certo 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 secondo me meriterebbe l'occasione ragazzi Russell io ce lo vedrei benissimo su quella macchina e non credo a chi scrive a chi dice che emilton macinerebbe russell come qualcuno che abbiamo intervistato tempo fa emilton distruggerebbe russell per me una grandissima scusate tronzata emiltono distruggerebbe siamoci di anche perché russell ragazzi russell è abituato alle lotte diciamo nelle retrovie emilton sono anni che praticamente corre da solo in passeggiata considerando il vantaggio che ha la mercedes quindi avere un compagno che gli dà battaglia secondo me lo rimetterebbe anche dal punto di vista psicologico un po più in difficoltà ricordiamoci la fragilità di emilton contro battoni mclaren rosberg tanti errori adesso emilton per carità che è fortissimo ma non fa errori anche perché ha una macchina che è un secondo più veloce della concorrenza il compagno di squadra non lo infastidisce e io lo vorrei vedere emilton a lottare con qualcuno a parità di macchina mica sarei così tanto sicuro anche fettel non sbagliava quasi mai red bull poi ha avuta una macchina inferiore o quantomeno all'altezza ha cominciato a sbagliare così come tanti altri campioni del passato ne ricordiamoci senna tanti mondiali sulla mclaren la prima gara con quella williams renault andò in testa coda perché non era più la williams di prost e mansell quindi questo succede ai campioni e quindi io non credo che emilton sarebbe così dominante probabilmente batterebbe russell a fine anno di esperienza perché ne ha molto di più da quel punto di vista però non sarebbe tutta sta passeggiata così com'è con bottas e quindi io immagino un bel futuro lì dentro se una volta se un giorno Mercedes dovesse decidere di affancare Russell a Hamilton francesco tra l'altro menna ci saluta e dice speriamo solo che non lo cuffano quelli di sky sappiamo il potere di manzini ricorda i tempi di di mazzoni però grande mazzoni sempre affezionato io a mazzoni dobbiamo intervistarlo mazzoni eh io voglio secondo me pienone pienone di di ascolti ma lo voglio sentire con quel cordiale saluti a tutti i telespettatori cioè ce lo deve fare ce lo deve fare in diretto allora ugo dice toto wolf il braccio destro di emilton io sono d'accordo con lui perché emilton deve tanto a wolf e a questa gestione perché quando si è ritirato rosberg naturalmente hanno scelto un compagno di squadra perfetto per emilton e non desse più di tanto fastidio poi è stato bravo bottas in questo ruolo di secondo anche lì e sta nel suo e quando emilton ha la giornata sorta bottas riesce sempre a a fare delle buone prestazioni però ragazzi bottas anche lui è stato un miracolato eh perché ogni anno si riprende questo rinnovo per l'anno successivo io nel 2021 mi aspettavo Russell perché con una macchina così avanti così all'avanguardia cioè comunque la mercedes non rischia nulla guardate il vantaggio che ne classifica costruttori però vorrà dire che probabilmente la permanenza di bottas equivale all'annuncio del prolungamento del contratto di emilton io la vedo così sì 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 certo certo perché non credo mercedes si vada a prendere il rischio di schierarsi nel 2021 con Russell e bottas comunque sia una macchina che è di un'altra categoria però sai buttare fuori un campione del mondo come emilton non è facile cioè sarebbe veramente un un colpo al cuore per emilton cioè prendi un sette volte campione del mondo lo metti fuori dalla squadra non esiste ovviamente però Antonio ci chiede se le clerk potrebbe battere emilton con la macchina a pari livello domanda da cento milioni di dollari non possiamo rispondere non lo sapremo mai forse a livello di velocità sì però ritorniamo sempre al discorso esperienza le clerk comunque è il terzo anno in formula 1 emilton è da 15 anni quasi che in formula 1 quindi non possiamo rispondere assolutamente però sarebbe divertentissimo ragazzi le clerk rasse comunque con macchine che si equivalgono e per questo io sono contrario al congelamento motori è una follia sto congelamento che vogliono fare perché devono cercare di equiparare le performance delle power unit congeli le distacchi praticamente se congeli le power unit si congeli congeli tutto e congeli però anche questa noia che oramai vede solo un team e solo un pilota perché come aggiunto ugo non vogliono probabilmente rischiare di mettere un pilota che possa dar fastidio forte accanto ad emilton quindi ci siamo persi anche quel brio cioè ron dennis sarebbe arrabbiatissimo di questa scelta lui che ha osato mettere piloti come alonso ed emilton o prost e senna sulla mclaren invece qui si ragiona un po' alla tedesca diciamo no sono bravi ragionieri lavoratori e ottengono i massimi risultati anche anche per questo però sarebbe bellissimo vedere questi giovani talenti tutti su macchine più o meno dalle tattesime prestazioni e ma la formula 2 è divertente per quello perché alla fine sono tutte macchine uguali ricordiamo dall'ara con motore mechacrom e alla fine si cambia il setup dei team però più o meno te la giochi chiaramente fa la differenza al pilota e non è un caso che le clerk russell abbiano dominato la formula 2 al primo anno come fecero emilton e rosberg nel 2005 rosberg nel 2006 emilton non è un caso il la stoffa del campione viene fuori in quelle occasioni tipo l'ha dominata anche van doorn però ha fatto una brutta fine e c'è stata una battuta di ragazzo che seguo su su twitter che ha detto la formula è oramai diventata la sedia elettrica perché chiunque va lì alla fine rimane bruciato e non torna più in formula 1 perché teoricamente van doorn avrebbe potuto prendere il posto no di emilton a causa della positività dell'inglese invece è stato scelto comunque rasso sono d'accordo davide con questo messaggio che mi che ci scrive damiano che dice il paradosso è che abbiamo grandi talenti ma macchine poco prestazionali esclusa la mercedes ecco questo secondo me è un punto interessante perché i team attuali è vero i regolamenti hanno impedito una rimonta sulla mercedes questo mettiamolo in chiaro però sono dei team sicuramente inferiori a quelli di una volta mi viene in mente questa è una delle ferrari secondo me a livello organizzativo peggiori di sempre la red bull non è la red bull di adrian newy di adrian newy scusate di fettel dei tempi di fettel la mclaren non è certo la mclaren mercedes del 2007 2008 così come la renault non è quella di alonso cioè c'è stato comunque una grossa involuzione da parti di team che una volta erano dominanti cioè ferrari mclaren all'epoca si giocavano i mondiali da sole adesso sono in difficoltà mclaren sta risalendo però nessuno ha mai avuto la potenza di prendere la mercedes colpa anche dei regolamenti ma anche degli dei team che sicuramente non sono più stati all'altezza della situazione cioè mclaren obiettivamente ragazzi sono otto anni che non vince una gara un'eternità non era mai successo per il team di walking otto anni senza successi sì tra l'altro cambiando argomento nicola e salutiamo lui scrive per news formula 1 nicola di brizzi dice ragazzi altro pilota che li ha presi nonostante sia ovviamente separando di williams davanti al suo compagno è stato latifi e ragazzi latifi forse veramente scarso della griglia e da questo punto di vista il canadese si è portato in troide alla williams che probabilmente ne necessitava per andare avanti però non riesce mai a a cacciare nulla cioè è vero che ha una williams è vero che anche rassero non ha segnato un punto però solitamente rassero distrugge e sui tempi e vedere un debuttante in formula 1 tempi di latifi francamente lascia lascia parecchio a desiderare da questo punto di vista comunque non male non mi è mai dispiaciuto più di tanto sì sì e invece parlando di aston martin salvo dice stroll con il suo papà miliardario se va in mercedes al posto di botta su emington fare il boom in realtà stanno cercando di trasformare l'aston martin in una mercedes perché si parla di adrian newey che andrebbe a ricomporre la coppia d'oro perché hanno vinto tutto in red bull lui e fettel e poi con i miliardi della famiglia stroll uscire veramente un progetto vincente ovviamente non nel 2021 parliamo del futuro e questo sono cose che odio con i miliardi costruire i successi sono cose che spero non accadranno mai però informa 1 sappiamo che conta tanto è un business sì sì assolutamente giuseppe addirittura lancio una provocazione visto quello che sta succedendo a perez non mi stupirei poi tanto se emilton restassi a piedi cioè per giuseppe può succedere di tutto però è ci sono sette mondiali di differenza comunque sì 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 emilton ma secondo me emilton è tranquillo ragazzi emilton questo momento sta cercando semplicemente di di rimettersi e avrà il suo bel contrattone stiamo parlando semplicemente se questa cifra va a ritoccarsi ancora di più verso l'alto rispetto all'attuale contratto oppure come diceva piero ladisa prima si assesta sui livelli attuali certo è che un campione 47 milioni di euro ricordiamo eh non stiamo parlando di uno stipendio da operaio ricordiamo sì praticamente più di 2 milioni agp sì una cosa eh sì è tanta tanta roba ragazzi quanto saranno 10 euro al secondo non lo so ma di più a voglia sì 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 molto molto di più vabbè ragazzi non è che scopriamo oggi il business che c'è dietro la formula 1 è ovvio che si prendono anche dei rischi l'abbiamo detto mille volte motorsport is dangerous abbiamo visto un grosso nonostante tutte le innovazioni comunque ci ha quasi rimesso la pelle è stato bellissimo un'intervista Giovanni che hai sentita no la l'esperienza raccontata però quel quel quei secondi che sono sembrati interminabili no perché anche noi eravamo davanti alla tv in ansia non vedevamo immagini e poi finalmente è uscito tra le fiamme un'immagine sembrava quasi un eroe no di quei film americani che esce tra le fiamme in piedi sì ma infatti mentre raccontava durante l'intervista no diceva pensavo a niki lauda io mentre la vedevo dicevo ma quante cose ha pensato in 20 secondi cioè potete immaginare per quello quanto sono durati cioè ha pensato ai figli ha pensato a quello che era successo a niki lauda ha pensato a sganciarsi anche dalla macchina no anche spiegato che la 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 scarpa sinistra l'ha persa perché non riusciva a sfilarsi con la gamba dal diciamo dal sedile quindi a forza di tirare perché la gamba era rimasta incastrata quando ha tolto il piede dal pedale si è staccata la scarpa quindi pensate quanto ha dovuto lottare anche per per scendere da quella macchina e ci ha provato due tre volte anzi ha detto a un certo punto io mi ero rilassato avevo capito che non c'era più niente da fare e mi immaginavo come sarei morto quale parte del mio corpo sarebbe bruciata per prima mi hanno messo i brividi queste parole sinceramente sì ma io ti dico per esperienza personale ho fatto una brutta esperienza perché sono rimasto agganciato ad un gommone sotto sopra quindi sono svenuto nell'acqua ti passa veramente la vita davanti perché cerchi di pensare a cosa si può fare in quei casi quindi capisco che davanti alle fiamme davanti a quel tipo di situazione ti passano mille pensieri e grogian è stato però forte no è stato lucido è riuscito a rimanere cosciente in una situazione dove era facile perdere i sensi e lì sarebbe stato veramente il peggio probabilmente si avesse perso conoscenza di o interveniva veramente il commissario e si buttava nelle fiamme però è stato è stato un miracolo ragazzi noi lo ricorderemo questo questo momento perché è stato anche per noi sì ma non avevamo mai visto un incidente di questo tipo non si vedeva dall 89 dall'incidente di Bergera Imola 31 anni 31 anni fa quindi vabbè ci sono fatti dei passi in avanti l'alo clamoroso perché l'alo probabilmente io credo che avrebbe potuto salvare la vita anche a giù il bianchi e però è stata un'innovazione che oggi non si può più tornare indietro certo certo però l'imprevisto ragazzi è sempre dietro l'angolo eh cioè questo non non lo sottovalutiamo e la formula uno si va poi fra l'altro queste sono le macchine più veloci di sempre più sicure di sempre ma comunque che hanno delle prestazioni incredibili quindi l'impre la tragedia può sempre starci anche con l'alo che ne sai che con la sfortuna incredibile magari un qualche pezzo di macchina non superi la parte iniziale dell'alo e vada a sbatterti in testa cioè anche quello può succedere paradossalmente può essere che anche l'alo non è sufficiente a salvarti oppure l'anno scorso Uber quando è morto in formula 2 no a spa lì c'era l'alo ma una vettura l'ha tranciato a metà di netto e lì l'alo può poco anche se sono macchine molto sicure anche quelle quindi impreviste dietro l'angolo non puoi mai dare per certo che che la formula 1 ormai è diventata i piloti di formula 1 ormai siano immortali non è così ce l'ha insegnato sabato la gara di domenica scorso e bisogna stare molto attenti bisogna continuare a spingere sulla sicurezza ad esempio una una cosa che mi è venuta in mente guardando stroll la domenica scorsa che si era ribaltato ipoteticamente in un incidente magari con le fiamme e l'alo ti può anche ostruire passaggio di uscire no sì infatti infatti lo scrive anche Andrea magari l'alo che ti intrappola secondo me infatti è questione di come è successo questo incidente cioè magari se la macchina si fosse fermata leggermente prima sotto il guardrail non sarebbe potuto uscire proprio per l'alo quindi l'avremmo giudicato in tutt'altro modo cioè adesso si fa io anche sono favorevole all'alo assolutamente questo mettiamolo in chiaro però adesso tutti a dire dove sono quelli che odiano l'alo ma io preferisco non giudicarle queste cose semplicemente perché in un'altra situazione ovvero con l'alo che avrebbe impedito l'uscita del pilota si sarebbe detto tutt'altro quindi è inutile fare tutte queste frasi fatte l'importante è che il pilota è uscito alo non alo l'alo ha avuto sicuramente un merito ma in una dinamica un pelo diversa poteva uccidere il pilota quindi sì giusto l'utilizzo dell'alo però secondo me basta parlare di questo incidente dal punto di vista della dinamica perché la fortuna è stata che che il pilota si è salvato piuttosto secondo me ben più grave è il discorso dell'incendio l'incendio non doveva esserci solo quello dovranno fare anche delle indagini no su questo serbatoio questa fuoriuscita di benzina per fortuna tutti andato bene però sono stati secondi secondi di paura l'abbiamo spiegato anche eterni davvero abbiamo spiegato anche con l'ingegnere poi vedo e per chi non lo sapesse c'è una diretta dove l'ingegnere che poi tra l'altro lavora in quest'ambito perché lui è un telaista e quindi conosce benissimo bene i telai delle auto e il motorsport quindi più di lui penso che ce ne sono poche di persone in italia che potevano dare diciamo un'insamina così attenta e approfondita sulla vicenda e quindi ci teniamo anche a a spiegare no perché molti commenti sono arrivati su magari al video scorso di youtube dicendo ma chi è ingegnere cui vedo per dire una roba del genere ragazzi è uno che ci lavora in quest'ambito infatti quindi insomma e oltre a essere ovviamente un ingegnere che scrive dei pezzi molto interessanti su news formula 1 comunque ragazzi domani appuntamento la gara la gara a che ora è Giovanni ricordalo alle 18 e 10 ora italiana chiaramente 18 e 10 quindi le 20 e 10 se non vado errato 21 e 10 in rain quindi si corre proprio a notte fonda stavolta questo weekend tutto in notturna anche le libere 1 e le libere 3 non l'avete visto tutto in notturna mentre settimana scorsa erano di giorno sì e stanno arrivando continuando ad arrivare commenti ragazzi vi rimandiamo a domani e se vi è piaciuta la diretta condividete lo raccomando su facebook con il tasto condividi che ci vuole un attimo e e sì ci vediamo dopo la corsa facciamo stesso orario di stasera intorno alle 21 21 e 10 sì in modo tale così ceniamo prima e poi ci godiamo insieme questa questa bella chiacchierata sulla sulla formula 1 ma non solo perché domani si assegna il titolo in formula 2 ora di pranzo alle 13 non ve la perdete sì e alle 13 e 55 se non sbaglio eh forse è 05 13 e 05 mi pare comunque ragazzi non ve la perdete perché è interessante questo testa a testa tra Eilott e Schumacher e poi Schumacher sarà sarà il prossimo anno in formula 1 ovviamente avrà gli occhi di tutti però bisogna avere pazienza perché l'abbiamo già analizzato come profilo tante volte e l'AS certamente non è la migliore delle delle macchine in pista forse con resta migliorerà lo vedremo il prossimo anno buona serata grazie a tutti per i ragazzi veramente ci ci date una forza una carica di di andare avanti con questo con questo progetto con queste dirette quindi ci ci divertiamo insieme a voi anche a ad analizzare il motorsport ciao ragazzi grazie a tutti